il comico, la battuta e la risata la senti lì ma chi vuole fare il comico purtroppo non può studiarlo nel senso che c'è questo grande equivoco nei tempi moderni quando qualcuno vede qualcuno che fa l'attore che lavora nel mondo dello spettacolo, vedi quello sempre ho visato invece bisogna studiare, credo sia una delle più grandi cazzate della mia generazione non è che se io studio recitazione divento Mastroianni o se io studio canto per 50 anni canto come Baglioni quindi è proprio una minchiata che si dice per cercare di attenuare certe capacità c'è un bellissimo feed di Woody Allen che mi dice basta che funzioni a volte mi dicono tante ragazze per esempio che io incontro mi dicono ma io sono più brava di quella, sono più bella di quella, canto meglio di quella io rispondo chi te l'ha chiesto cioè questo non è un mestiere dove vince l'eccellenza questo è un mestiere dove vince chi funziona e la comicità ha soltanto un obiettivo funzionare quindi non è questione di vince chi è più bravo vince chi fa più ridere, vince chi è più interessante non si studia questa cosa insomma ma la racconta io ho qui tatuato Chaplin che era un signore che insomma il primo assegno che aveva ha fatto una X perché non sapeva né leggere né scrivere eppure è un genio assoluto è inventato il montaggio cinematografico la colonna sonora e il coreografo eccetera eccetera la maggior parte delle persone interessanti che io conosco a partire da Alberto Sordi che come si sa è stato rifiutato all'Accademia ma insomma Lenny Bruce ma anche Jim Carrey insomma era un morto di fame quindi non dipende dalla cultura, non dipende dall'estrazione non dipende da quanto ti applichi io credo che il comico sia un'entità pura che diventa comico senza farlo apposta cioè molto spesso quello che dovrebbe fare un comico non è studiare ma l'opposto non dovrebbe fare un cazzo io sono stato visto nella divisione dei clown cioè il clown bianco, il clown augusto io un po' in Colorado insomma ero più augusto nel senso che poi sono più a volte cioè sono passato da quello che faceva le marachelle a quello che invece faceva da spalla io indosso volentieri entrambe le maschere il mio inizio è stato da Giamburrasca insomma era una mina vagante a scuola e mi piaceva dissacrare mi piaceva dissacrare perché credo che proprio in questo modo di sdrammatizzare la realtà o le istituzioni ci sia una grande libertà la grande libertà sta nel fatto di devastare la scuola di devastarla ovviamente con la parola la parola ha un grande valore oggi oggi forse più che mai ma di devastare tutto quello che è l'istituzione tutto quello che è comunque anche il cinema se vuoi tutto quello che è un buon tonne nella comicità ha sempre avuto questo valore ma dall'età preellenica insomma la satira è nata con la democrazia fortunatamente ora probabilmente morirà con la democrazia ma insomma questo è un concetto diverso la mia voce comica è nata negli banchi di scuola mio padre e mia madre mi raccontano all'elementare facevo delle cose abbastanza surrezionaliste insomma io ho attaccato una volta un pitale dietro il mio banco ho chiesto alla professoressa di andare in bagno ho pisciato sul muro l'ho giustificata come un'opera naif ecco credo che forse il dadaismo nella comicità sia interessante cioè mai come questo periodo bisognerebbe distruggere tutto decostruire come nei bellissimi film di Black Edwards o Hollywood Party bisogna essere tutti Peter Sellers cioè devastare tutte le substrutture e le macrostrutture social che ci siamo costruiti cioè prendere Instagram e rovesciarlo cioè prendere social e farli diventare sociali prendere la politica e farla diventare qualcosa che ha a che fare con i cittadini insomma oggi più che mai la comicità sia della torta in faccia che di uno che cade su una buccia di banana o di uno che ha un'indettiva politica è fondamentale ma sempre più rare e difficile da trovare sì allora io anzi ho chiesto molto a Paolo di venire qui oggi questa sera perché io ho una particolarità io sono una fanatica di etimologie cioè però nel senso che a me proprio mi eccitano fisicamente se a me mi raccontano l'origine di una parola io mi spoglio così subito se poi mi parlano in greco antico la do sono anni che aspetto che al primo appuntamento qualcuno mi dica trasverberazione non so se sapete cosa vuol dire è la trafittura del cuore del putto da parte dell'altissimo poco usata che peccato allora mi piacciono tantissimo le parole perché sono parabole raccontano delle storie io mi ricordo tutta la volta che ho sentito una parola per la prima volta per esempio Nathan io la prima volta che ho sentito la parola straniero avevo otto anni ero nel mio piccolo paesino veneto con mia nonna siamo uscite in bicicletta e a un certo punto mia nonna si è scontrata con la bicicletta di un vecchietto che veniva dal paese vicino sono rimasti paralizzati nella calura di agosto con le biciclette una sopra l'altra dopo dieci minuti di silenzio mia nonna è riuscita solo a dire ma scusa ma da dove vieni? Eilo! e il vecchietto ha risposto dall'altra parte del canal e mia nonna è indignata e non poteva starsene casa sua straniero e così ho capito lì che nella vita bisogna presto scendere a lottare sulle barricate che peraltro in Veneto sono solo di grappa le barricate allora invece la prima volta la prima volta che ho sentito invece la parola lesbica avevo 16 anni e stavo facendo il gioco della bottiglia a un certo punto la bottiglia si ferma su di me e poi su Manuela che era la più figa della scuola allora uno interrompe il gioco e dice eh no non vi potete baciare se no vuol dire che sei lesbica io che sono ipocondiaca penso a una malattia mortale e svengo Manuela che invece aveva dei rudimenti di primo soccorso mi fa la respirazione bocca a bocca io rinvengo e svengo 4-5 volte poi però la sera nel dubbio vado a casa da mia nonna che era la mia confidente e dico nonna ma io sono lesbica e lei mi dice ma no amore te sei soltanto un poco presbite e così e così quella sera ho capito anche il senso della parola rispettare dal latino spettare guardare riguardare quindi per rispettare qualcuno bisogna guardare meglio guardare due volte non vi dico io quanto l'ho rispettata Manuela tantissimo soprattutto quando giocava a pallavolo comunque questa è per i l'intenditrici ecco no anche se devo dire che oggi io in generale non si parla più di categoria a proposito di stereotipi preferisco moltissimo questo concetto della fluidità no? che arriva da fluire da fluore che vuol dire essere in trasformazione essere cangianti che è utilissimo perché così ci vuoi provare un po' con tutti sai mai come va e quindi adesso sono dovuta tornare da mia nonna che dopo anni aveva imparato a dirlo alle sue amiche che ero lesbica ho detto nonna guarda che io non sono più lesbica si dice che sono fluida e lei mi ha detto va bene amore vorrà dire che avevi preso un poco di freddo te passo l'imodium ho dovuto spiegarle che insomma non si trattava di problemi gastrointestinali alla fine lei si è convinta però mi ha ribadito ricordati che l'amore prende sempre allo stomaco e forse è per questo che perché l'amore prende sempre allo stomaco e non sai mai quando ti arriva che tra tutte le parole tra tutte le parole che esistono al momento la mia preferita è un simbolo è il più il più della sigla LGBTQI più perché il più significa tutti gli altri cioè noi siamo la prima minoranza che comprende una moltitudine capite la genialata e la cosa più incredibile è che la moltitudine non sa neanche che fa parte della nostra minoranza cioè e questo è secondo me straordinario tra l'altro nelle città dove le persone diciamo si possono esprimere liberamente tipo a Milano così io vivo a Milano oramai da molti anni oramai di eterosessuali non ce ne sono più cioè non li trovi veramente escono il sabato sera col passamontagna si vergognano poverini cioè non sono terroristi sono eterosessuali in libera uscita a me sono rimaste solo due amiche eterosessuali veramente sono disperate il sabato sera mi chiamano piangendo io dico ragazzi una me la sono anche fatta ha detto non mi disperate perché adesso c'è il più fate parte anche voi del nostro movimento va tutto bene e se comunque nel caso vi venisse qualche dubbio voi non vi preoccupate perché io ve li risolvo l'importante è che mi parliate in greco e mi telefoniate eccolo qua il mio numero di telefono nel dubbio chiamatemi Anna Gaia Marchioro grazie ecco esattamente come ti dicevo prima che il comico forse meno fa e meglio è nel senso che deve soltanto abbandonarsi alla sua capacità al suo talento no? che lì c'è una grande dicotomia poi tra l'essere comico ed essere un professionista cioè per me John Belushi io un attore meraviglioso mi interessa meno come uomo no? cioè no? mi interessa meno cosa faceva la sera a meno che quello che faceva la sera non inficiava nel suo lavoro insomma questo è il problema il grande il grande problema però chi lavora col comico lavora con un materiale che non è una penna come lo scrittore ma lavora con questa e quindi questo materiale d'ufficio è un materiale complicato da gestire perché muta perché cambia perché lo vedi allo specchio una mattina quando ti svegli la scrittura è esattamente quella metodologia che deve essere disciplinata per fare in modo che il comico sia organizzato è quindi quello che ti dicevo prima cioè mentre si può scazzare sul palco si può improvvisare ti può lasciare andare abbandonare al tuo talento al tuo essere alla tua creatività quando scrivi e quando concepisci un film una scrittura comunque comica essa sia teatrale o cinematografica devi saperlo organizzare secondo dei dettami canonici o dei dettami che sono comunque ben teorizzati te ne posso dire migliaia insomma ci sono tutte quelle paraculate che tanti comici fanno dai tormentoni alla regola del tre al fatto che comunque se io faccio una battuta ho bisogno di un respiro se io faccio una battuta dico una cazzata poi a teatro si sente questo è comico che paraculamente anche se io detesto quel genere di comici dicono se dovete fare fatelo ci sono tanti metodi e tante e tante teorie su questo però sicuramente la scrittura comica è qualcosa che va saputa gestire dosare impostare comunque anche io stasera visto che mi sento in famiglia volevo fare il mio coming out ok stasera mi dichiaro ufficialmente sfigato si signore e signore ho avuto la conferma proprio stasera ok cioè prima di prima di entrare qua nel teatro c'era uno fuori che mi ha riconosciuto visto che faccio un po' di video sui social mi ha chiesto un autografo inizia a scrivere poi mi fa bro per favore puoi scrivere che sei Mario Balotelli sì avete capito la mia vita fa schifo sì io sono quella tipica persona che vedete spesso nella fermata dell'autobus che tipo quando arriva l'autobus tutti salgono poi l'autobus se ne va si allontana lentamente piano piano lui non è salito è rimasto là da solo perché c'erano i controllori dentro cazzo poi c'è essere sfigato ci sta per carità ok ma essere sfigato poi nero chiedendo l'asilo mentre c'era una crisi di governo che non sapevi se ti volevano o no sulla mattina fai i bagagli la sera o no la mia vita è uno scherzo finito male ve lo giuro signore veramente poi uno sfigato come me incontra sempre quegli altri sfigati ignoranti che dicono solite frasi da dieci anni sapete quelle frasi che ormai è entrato nel nostro gergo di tutti i giorni no tipo sì tanto i neri vengono qua in Italia e ci rubano il lavoro io su quella frase ci ho pensato un pochino e nella mia riflessione mi è venuto fuori una domanda che non riesco a rispondermi magari voi stasera mi aiuterete a trovare una risposta per favore la mia domanda è come si fa no anzi meglio come minchia si fa a rubare qualcosa che non c'è no ma c'è qualcosa di ridicolo pensateci un pochino signori cioè io l'ho sentito talmente tante volte quella frase che mi fa ridere perché mi ricordo una barzelletta che mi raccontava spesso mio padre quando ero piccolo no che c'è stato un incidente la polizia stradale sta facendo un rapporto e arriva uno cieco che fa chiedetemi pure ho visto tutto ok poi il bello è che sono anche le stesse persone che dicono sì tanto i neri vengono qua in Italia non vogliono lavorare sono pigri mentre a Milano dove abito io se uno lavora troppo dicono oh ma figa te l'ha urat ma un nager decidetevi signore cioè decidetevi no ma veramente poi non so se avete visto sui social c'era un video che stava girando di una signora anziana che stava menando un ragazzo di colore nel pullman non voleva che questo qua si sieda vicino a lei dicendo che i neri puzzano sul serio fino ad oggi 2020 pensate a quella che noi ne ripuzziamo alzi la mano chi pensa che noi ne ripuzziamo chi? vabbè io un pochino signori io un pochino ma non è per quello che dovete fare tutto questo casino poi i miei preferiti sono quelli che scrivono spesso nei commenti pornav spessi cazzo ridio spesso cioè io mi informo spesso scrivono sì tanto i neri vengono qua in Italia e ci rubano le nostre donne quello è vero non fraintendete mi signori è semplicemente perché noi neri sappiamo un po' giocare con le parole che è una cosa che la maggior parte degli uomini italiani non fanno più ok perché io l'altra volta stavo facendo l'amore con una e mi fa Nathan dimmi quanto mi ami io l'ho guardato e l'ho detto bambola io ti amo quanto un nero che fa glovo ama la sua bicicletta cioè delle parole così bellissime come non fu la nocadesa ai nostri piedi ragazzi dovete essere un po' più romantici no poi io vi dico la verità quando sento tutta sta gente dire queste cose io li capisco li capisco perché hanno solo paura di questo di questo cambiamento e ogni cambiamento fa paura è normale ok hanno paura di questa convivenza che ormai è inevitabile perché prima o poi dovremmo tutti vivere insieme perché c'è uno studio molto interessante dove gli esperti hanno scoperto che ogni anno l'Africa si avvicina all'Europa di tre centimetri tre centimetri non siete abbastanza sorpresi signori e tanto tre centimetri può cambiare la vita di tanti uomini dentro questo teatro ok Paolo tu sicuramente saprai qualcosa di centimetri no è vero è tanto tre centimetri ve lo giuro quindi io mi immagino un giorno un giorno prendiamo l'esempio di un mamadù che sta facendo la sua passeggiata in spiaggia visto che il mare si restringe e guarda il mare fa signor signor bevi l'acqua mi passi un po' di sale grazie grazie mille Roma il comico deve dire qualsiasi cosa ma politicamente se io io non so che significato dare all'arte so qual è il contrario dell'arte il contrario dell'arte è il politicamente corretto non ho dubbi quello che è il metodo distintivo è se è una cosa far ridere o non far ridere Charlie Hebdo non so se è giusto o no ti dico non sono io per decidere se quella cosa far ridere o non far ridere ma credo che la libertà di poter esprimere anche in maniera violenta una cosa che tracima dalla comicità esonda verso qualcosa di satirico ma anche su qualcosa di più violento o comunque sulla carta si può fare sulla carta come sulla pellicola come ovunque purtroppo credo che nella storia dell'uomo non si sia mai vissuto un periodo buio come questo cioè un periodo di repressione veramente forse nel medioevo esisteva a me non ti nascondo che sto male perché purtroppo purtroppo la libertà di parola credo che abbia fatto dei grandi danni nel senso che secondo me la capacità la possibilità che il pubblico ha avuto di commentare ha fatto un casino era molto più era tutto più bello quando la gente non commentava la gente aveva la possibilità di scegliere se acquistare il biglietto di un film piuttosto che di un altro se cambiare canale quindi con questo esprimeva la sua volontà democratica e poi aveva la possibilità di ridere o non ridere oggi ha la possibilità di dire duemila cazzate io inizio una battuta e qualcuno sotto me la finisce io dico una cosa e qualcuno sotto mi dice che sono un cretino io rido e qualcuno dietro mi dice che cazzo ridi ecco quando inizia a esserci qualcuno dietro che si sente il diritto di dirmi che cazzo ridi è finito cioè quando io sono un clown e arriva uno che mi dice ma te sei un coglione di 50 anni con il naso rosso e le pantofole e si sente in diritto di poterlo fare e si sente in diritto di andare da babbo natale e tirargli la barba e dire che lui rappresenta una volontà esterofila e una connotazione assai politicamente scorretta rispetto a quello che è la nostra identità nazionale ecco io veramente lì mi cascano i cuglioni e questa cosa credo che sia gravissima cioè noi siamo di una generazione che vedeva in televisione un signore con accanto un cocheri e diceva asfidanken oggi quello sarebbe impossibile perché gli animalisti ti farebbero chiudere noi siamo una generazione che vedeva Renzo Arbore con 25 ragazze con la cresta che erano le ragazze con il codè oggi sarebbe impossibile oggi sarebbe impossibile vedere non è la Rai sarebbe impossibile vedere i cinepanettoni mi manca tantissimo a me la volgarità cioè io adoro la volgarità a me proprio mi manca mi mancano dei sic e boldi che mangiano delle polpette ignari del fatto che era uno dei coglioni di un serial killer era una cosa meravigliosa per me era come vedere Topolino e Paperino insomma credo che la volgarità sia molto più oggi la volgarità oggi è uno che dice non si dice handicappato si dice risabile e poi per andare a comprare una bottiglia di champagne lascia la macchina nel parcheggio riservato a loro quello secondo me è molto volgare quella è proprio la parte la parte volgare di questo momento ma ti potrei fare mille esempi cioè nei nuovi mostri c'era che ne so Tognazzi bestemmiava o c'era Alberto Sordi che diceva le donne sono tutte troie insomma c'erano delle cose di una libertà pazzesca ma ovviamente non erano indicatori di un sentimento di una credenza erano anzi uno specchio di una fetta del paese che oggi non si può più rappresentare ed è proprio quella fetta del paese che quelle cose adesso le crede e vuole impedire a me di poterle dire in un film come hanno già detto sono Mirko Darar sono gay già solo per il fatto che sono quasi vent'anni che mi faccio il culo dovreste far l'applauso e non sopporto più i soliti luoghi comuni sui gay allora diciamolo una volta per tutte gay e etero non sono così diversi vi stupirò ma noi gay facciamo le stesse cose per esempio sul pratico anche i gay fanno il presepe giuro ma completo di tutto grottere magi pecorine tutto poi i modi di dire i modi di dire sono similissimi voi dite chi fa da sé fa per tre noi diciamo chi fa da sé oh mamma mia che frustrazione oppure mal comune mezzo gaudio noi diciamo mal che vada mezzo claudio ci sta sempre bene oppure tutti per uno uno per tutti noi entriamo guardiamo e poi decidiamo però insomma ci sono tanti stereotipi per esempio si pensa che i gay non guardino il calcio non è vero io ho smesso di guardare il calcio perché esattamente come gli uomini etero odio essere disturbato mentre guardo qualcosa che mi piace eh sta cazzo di palla che passa ogni tanto mi tolgo le quadrature dei calciatori dai che poi voglio dire se c'è uno sport gay a mio avviso è il calcio 22 uomini su un prato con gli shirt che corrono fanno le spaccate no parlano di falli e palle tutto il tempo poi si fa la doccia nudi quanti anni sprecati a fare quitazione poi anche chi accetta la cosa no chi ci fa dell'ironia sono sempre i soliti luoghi comuni per esempio entro in una stanza oh ragazzi tutti col culo contro il muro che entra il ricchione allora a parte che essere gay non significa essere una persona priva di buon gusto eh cosa ti fa credere che io voglia venire a letto con te bel trichecone spiaggiato dal sentore micropenico eh ma poi un po' di fantasia tu ti copri dietro ma anche dal davanti e sconfuori dai giochi mica niente male eh dai allora poi c'è un'altra battuta che vuole che l'etero vada all'urologo e gli dice mi raccomando dottore faccia piano paura il gay lo incoraggia vedi lei è una di quelle che fa quella battuta lì non è così io la prima volta che sono andato dall'urologo ci sono rimasto anche male ero lì in posizione lui dietro che ravanava sembrava stesse facendo complemento d'arredo no a un certo punto io mi tiro su indignato gli faccio dottore che modi ma almeno un bacino prima perbacco poi tutti sanno questa cosa qua che i gay si vestono tutti benissimo non è vero guarda ma il gioglio che ci fa fare delle figure di merda dai poi ci sono quelli che te lo chiedono ma com'è che voi gay sapete sempre vestirvi così bene se com'è ce lo insegnano la scuola di gaytitudine esiste la scuola di gaytitudine sì la university rainbow magic land lgbtq rst nome lungo ma d'altronde non poteva che essere una scuola gay tu entri in questa scuola tutta rosa e c'è il maestro proprio di gaytitudine in calzamaglia attillata rosa o lilla seconda del maestro e lui parte proprio dalle basi per esempio il polso ragazzi non così coraggio proviamo insieme sette e otto e uno e due uno e due allora laggiù quante volte ve lo devo dire almeno qui è vietata la fila indiana un po' di contegno laggiù in fondo vi ho sentito non si dice mi piace si dice adoro poi c'è quello che dice quanto sono sensibili i gay il cazzo le peggio merde a questo mondo sono i gay sappiatelo allora io l'altra sera sono uscito con un ragazzo gay a fine serata mi dice guarda tra me e te non può funzionare dico ma come ma mi è sembrata una serata carina si la serata è stata carina forse non ti piaccio come persona no no non ti piaccio fisicamente non è anche un bel figo ma allora che cosa è che io con quelli al di sotto dei 17 centimetri gli dico ma perché hai la bocca che misura ma vado a occhio gli dico adesso è un tipo profondo è questo il problema e poi l'ultima luogo comune che anche questo è molto conosciuto i gay sono tutti promiscui allora io personalmente non l'ho mai fatto a tre e già tanto se ogni tanto riesco a farlo a due da solo faccio dei capolavori ma vabbè non divaghiamo però voglio spezzare una lancia a favore di quelli che magari sono un po' più diciamo lascivi non è che sono promiscui è che sono di compagnia è che ogni gay dentro ha proprio un animo sportivo anche il più gracilino quindi quando vediamo un gruppo di omoni prestanti facciamo valere il famoso motto l'importante non è vincere il codarare guarda questo fortunatamente no nel senso che quello che tu chiami paura per me è emozione quindi l'emozione è la rinfa vitale di questo mestiere però non l'ho mai non l'ho mai avuta fortunatamente non l'ho mai l'ho avuta davvero e forse si sente ma spero di non metterci troppo livore ho paura del ho paura dei follower non ho paura del pubblico il pubblico è meraviglioso i follower sono insinuosi insomma sono persone che non sai chi sono non li vedi hanno dei nickname hanno delle foto profilo photoshoppate mettono dei filtri davanti a loro il pubblico è straordinario il pubblico è magari ma adesso il pubblico cioè questo rimane sempre il teatro rimane sempre il mezzo di espressione più urgente e tecnologico che ci sia insomma un posto dove l'attore non è grande come al cinema non è più piccolo come il tv ma è vero in scala 1 a 1 quindi rimane sempre il mezzo di comunicazione più straordinario io sarà che poi ho passato anche l'animatore turistico insomma sono sempre stato abituato a vivere in mezzo alla gente con la gente che mi fermava e andare all'autogrill al mercato in autobus insomma credo che quando poi smetti di avere un contatto con la gente e col pubblico si inceppa qualcosa insomma quindi l'ho sempre abbracciato tanto ho cercato di ringraziarlo e di meritarmi l'affetto e la stima di chi mi segue ma io e i giovani che vogliono interprendere la carriera del comico suggerisco di sapere chi è Eric Gervaese di sapere chi è Chris Rock tutti gli stand up comedian del mondo ma di non dimenticare chi è Walter Chiari chi è Ugo Tognazzi chi è Alberto Sordi chi è Cochi Renato chi erano Franco e Ciccio Bombolo e tutto quello che è il nostro retaggio culturale di anni liberi e scatenati 70, 80 e 60 in cui in Italia forse c'era una produzione comica davvero straordinaria perché si poteva andare da Thomas Millian che faceva Ermonnezza in Delitta all'autostrada ma poi faceva anche identificazione di una donna di Antonioni noi abbiamo avuto una produzione cinematografica e comica come nessun'altra secondo me al mondo ma non perché siamo migliori ma perché rispecchiavo ovviamente una cultura che era sì una cultura occidentale però era una cultura che comunque attingeva da una sapienza millenaria e quindi sai anche quando te ripensi a certe cose appunto anche al linguaggio volgare scatenato che avevano delle poesie latine da Marziale ad altri insomma noi abbiamo proprio la possibilità di attingere ad una cultura straordinaria oggi i ragazzi a volte si concentrano soltanto su chi magari dall'altra parte dell'oceano dice cosa li fare sugli ebrei ma non è soltanto quello sennò quello diventa un ostentazione diventa un esercizio di stile veramente sterile noi abbiamo la possibilità di far ridere molto e lo facciamo sia con il gesto che con la parola che con l'incanto ritornare e restituirci questa identità dipende dai ragazzi che però mai come in questo momento rischiano di perdere un elemento straordinario che è la curiosità è surreale perché c'è google i ragazzi ormai sono le meto cadicitali ma se su google cerchi sempre la stessa cosa alla fine avrai sempre la stessa informazione bisogna che invece ci sia più interesse rispetto al recupero di qualcosa di passato bisogna che non ci sia assolutamente una prescrizione su quello che è il bianco e il nero su quello che è il nostro trascorso ma non perché è più bello ma perché lo puoi restituire meglio a chi ti guarda adesso cioè se io oggi vedessi il sorpasso un borghese piccolo piccolo voglio dire che sono film rivoluzionari che neanche il camp di Tarantino riuscirebbe a fare grazie a tutti